bella a tutti ragazzi eccoci tornati in questo video su mxgp sono qui il mitico seconda delle tappe però mi sta trapassando i timpani ok ok andiamo con le prove facciamo due giri di prove giusto per vedere come mi ricordo un cazzo perché non so da quanto tempo è che non ci gioco non darsi che faccia abbastanza schifo cioè non può darsi farlo sicuramente abbastanza schifo non mi viene il super numero ecco qua perfetto boh no devo vedermi schiantare come ecco qua fatto però sta in pista grazie niente non lo fa non la voglio eh che palle però si è sempre buttato male stavolta credo di aver risolto il problema a livello a livello di schermo che c'era la risoluzione dello schermo sbagliata credo di averlo messo a posto vedremo quando quando lo vado a montare nel caso se no mi scuso già in anticipo dai su salta qui la fa no ma perché non la merda perché non la fa che palle oh cazzo ma va fa un culo butron butta nel culo butron di merda ma io non li so bene i nomi a parte cairoli e qualcun altro della mx1 non li so i nomi per favore non picchia ma va fa ti so tutto sono voluto 600 milioni di volte e sono in terzo vant ok porca oh la tenuta ma eh eh ragazzi basta spegnete il video mettete like basta Ho già fatto troppo, troppo. Uh, mamma mia. Il problema di fare i video così è che implica che non posso fare riavvia a gara nel caso. Sarà una stagione vera e propria. Non so neanche se c'è il tasto riavvia, penso di sì. Vabbè, le prove sono abbastanza inutili, eh, ve lo dico, però. L'ha fatto lui, lo voglio fare anch'io. Niente. Ah, che cazzo è, come ti tuffi i mani. Oh. Beh sì, giocare con la tastiera è un po' un inferno, eh. Non l'ha fatta. Non ho ancora capito il tasto per farlo, sinceramente. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh. Oh oh porca pottana. Ancora a Voltron. Ma va, fanculo, devono dire la verità. vabbè ragazzi le prove facciamo sto giro dopo la finiamo wow ho l'ho fatto basta posso finire le prove torno in box c'è l'ovvia sessione scendi in pista infosessione vaffanculo salta qualifica beh ottavo non va neanche male ho visto i tempi di merda che ho fatto guadagno esperienza a Nando dovrebbe essere difficoltà media non l'ho detto bene comunque si è difficoltà media perché non sono abbastanza pro e non essendo abbastanza pro non posso fare i miracoli cazzo sono già 5 minuti ragazzi velocizziamolo che ci sono anche due gare da fare questo è ovviamente il pilota automatico non fare mai una curva del genere non ho capito a cosa serve la qualifica 1 cioè se sono due qualifiche no una qualifica ma c'è una qualifica che cazzo dico mi ricordo neanche più uh yeah e se vuole vedere come si sporcano uno dice vabbè è normale ma non è per è normale per un cazzo perché bello taglialo un po' di più levati levati merda uh porca troia ferris vieni qua dovevo parlare ferris non ho idea di chi sia ferris ma lo dico prima magari è il campione mondiale di mx2 oh porca vabbè andiamo 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 dai vai 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 farlo, cazzo, cazzo, merda, ho spinto contro, mai spingere contro, ok, oh, oh, che cazzo spacchetti, vuoto, va, 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 ma che cazzo, come faccio, va, va. Adesso tutto ne qualifica, la chiro, oddio, non sa, niente, facciamo un altro giro. Ti ce lo so, e comunque deve schierarmi qui, che palle. Ma vaffanculo il parmigiano reggiano. Che cazzo. Ma qua se c'è parmigiano reggiano... Siamo in Olanda. Mi sembra. Comunque non in Italia, quindi. Vabbè. Mi odia, mi odia fare quella roba lì. Fala anche tu. Oh, bravo. Ce l'hai fatta. Ti darai un premio, eh. Vabbè. Dio. Non può un po' cadere. Come fa tu? Ma cos'è? Vabbè. Vabbè. E tu? Tu, ciccio pasticcio. Sto indietro. Niente. Dai su, ostia. Beh, che bello. Basta. No. Ma che devo esessere. Ho detto che devo fare tutto per bene, mi fai fare le due esessere. No. Non c'è. Salta gara 1. Beh, no. Vaffanculo. No, vabbè. Non posso essere primo con un tempo così. Nuova squadra sbloccata. Non mi idramica che sblocco le squadre andando su di livello, vero? No, per favore, ma è tristissimo. Comunque non ero in Olanda, ma comunque siano lei in Italia. Questo le posso essere sicuro. Scusi. Aspetta. No. Ma che cosa sta mettendo a posto lei? No, è giusto per se... Non volevo disturbo... Vabbè, andiamo, andiamo. Scusi, non la disturbo più. Ma io direi... Ma sì, quella laterale, dai. Non so, non so. Vai, 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 vai. Piotta, 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 piotta. Ma quante KTM ci sono? Quante... Oddio, quante K... Signore Erlings, per favore, cazzo. Vabbè, ti pareva... Mi pareva scontata la cosa. Ah, Ferris. Eccoti qua. Ehi, là. Ma è in mezzo a due. Oh mio Dio. Vai, 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 vai. Non lo fa. Non lo fa, non lo fa. Merda. Ansti è... È gasato, è gasato. Non è più gasato, Ansti. Ansti, permesso... Ma porca troia. Dai, cosa succede a non voler fare bene le prove o le qualifiche? Non mi frega un cazzo, tanto... La difficoltà media sembrava più difficile l'altra volta. Nel senso... C'era tempo più... Merda. Ok. È messo. Colder off. Colder off. Grazie. Vedrò di aumentare un po' la difficoltà, perché... Adesso magari poi dico così per non vincere neanche, eh. Altra volta, ma... Mi hanno battuto per un cazzo, cioè... Mi eravamo... È una gara due, mi sembra. Porca troia, ho perso la... Merda. Oddio. Sono distratto. Oddio. Ma perché devi fare queste cose che... Vai, perché prendi Tixier. Guardalo. Ciao, Tixier. Uh. Mamma mia. Eh, vabbè, sei più forte. Pensone che va in testa. Va in testa, attenzione. Attenzione. Quando succederà col me l'altra volta, sicuro. Neanche starlo a dire. Merda. Ecco. Ma che cazzo fai? Ma sto imbecillo. Ce l'ho già dietro al culo? Ah, io taglio. Affanculo. Forse trovate un modo di farlo. Vieni. Bastava che smettessi di premere l'acceleratore prima di saltare. Lo farò in quel salto lì. È mio. È mio. Non l'ha fatto. Oddio. Mi sembrava scontato che non lo facesse comunque. Però... Non lo ci provo. Dice, magari. Non lo fa più. Va bene. Scusa. Non posso avergli dato due secondi e due. Oddio, è come un'altra volta. Non lo fa scolare. Nella terra, neanche nell'erba. Sono Erlings or Passatixier. Guarda, valla. Porca. Vabbè, non qualche tanto. Veloci, 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 veloci. What? Yes. Niente. Ho un po' tagliato. No. Avversario. Poco cock. Eh, decim. Eh, vabbè. Vai a pascolare, allora. Vai a far da un bagno. Cos'era? Una pozza d'acqua. Cazzacino. La piscina. Devo andarci anch'io nella piscina. Olè, tagliamo apertamente. Non so quante squalifiche mi sarei preso nella realtà. No, non ho delle cose. Eh, ragazzi, in questo modo andiamo a vincere. Sì, comunque non è possibile. No, ma. Oggettivamente non... Sia che la minca che no. Incidente, togo. Mi dispiace, togo. Spero nulla di rotto. Porca troia. Merda. Oh, Gesù. Fermo. Vado. Madonna. Dai, dai, dai. Beh, c'è a dire che sto andando meglio della... Sto andando meglio delle qualifiche, eh. C'è a dire. Delle qualifiche... Dio! Perché parlo? Adesso, vabbè, cinque secondi, non è che... Ecco. Ciao. Guarda. Non ci voglio credere. Visto cosa succede a fare i cazzoni. Oddio. Oddio, sì, sì, da che io lo metto nel culo. Io l'ho messo nel culo, io l'ho messo nel culo, togo. Figlio di troia. Vai così. Sì, ragazzi, faccio veramente, veramente merda. Lo stai italiani, eh. È proprio una merda, ma... È proprio una pippa astronomica. Immagine sbloccata numero nove. Vabbè, io vado avanti. Cioè, non è che ci siano diversi problemi, eh. Carità, però... Ma posso tipo mettere a posto? No, credo non possa farlo qui. Opzioni, tipo... No. Vabbè. Vedremo di cambiare magari alla prossima. Eh, ok. Perché metti sempre a posto nulla? Non c'è niente. Cosa metti a posto? Imbecille. Vabbè. Piccoli buck. Perché vibra che non sta accelerando? Non ne ho idea. Non va bene così. Tixier, levati. Tixier, levati. Tixier, fai una brutta fine. Non è vero. Ole. Il rodeo! Ah, se stavolta vado gasato, gli voglio dare un giro. Un tre giro farò fatica. Molta fatica. Uala. Tranquillo, eh. Tixier. Neanche un errore. Gara perfetta. Tagliamo, ovviamente. Perché lì si taglia. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Perda. Ok. Eh, ragazzi, prima... Non so che non c'entra niente, ma prima ho fatto una partita a MV3 e non mi ricordo più come si gioca. Su PC, eh? Non mi ricordo più come si gioca. È una cosa scandalosa. Vabbè. Ollè. Guarda come passa. Non l'ho registrato, no. Madonna. Guarda io. E faccio gli record del mondo. Guardalo come guida. Perché non guidavi così anche prima? Mi l'hai fatto sudare prima. Stronzo. Oddio. Eh, vabbè. Porca troia. Tra l'altro... L'ho già detto anche nell'altra volta. Ma perché devi far trapassare le ruote? Cioè, il terreno ha le ruote. Ma che cazzo? Eh. T'amore il record del mondo. Vabbè. Permesso. Oh, cazzo. Mi scordo sempre che c'era purva lì. Ma perché scivola prima della discesa? Vabbè, sono passatemi tutti, no? Colder. No. Ok. Se è meglio te. Permesso. Permesso. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Eh, stai rischiato. Adesso, ho visto sbacchettare un po'. Sono capace anch'io? Oh, è vero. Tagliata come la morte. Tixier soccombe alla velocità di l'u... Oddio. Non sto neanche a dirlo quanto l'ho presa male quella qui. Tagliamo. Oh, è... Ehm. Ehm. Ma vallà, dai, due secondi. Ho detto. Adesso come mettete che stavolta mi incura. Perché sono fatto così, se non sono sotto pressione, io ci do su e sto a fare il cazzone. Il problema è che facendo il cazzone, se hai visto prima, un errore mi hanno recuperato. Ho capito che è meglio tutto, ma sarebbe carino non sbagliare. Quindi, fai bene questo salto, fallo tamarro, yes, è stato inutile farlo lì, infatti ho perso, ma ho guadagnato, cade, cade, non è per lì. Quella curva la odio, non l'ha fatto, va bene. Se la prendi di là, fa meno, se non fai il salto, da quello che ho letto è meglio. All'è, va là, che stile. È sempre la stessa merda che in Cilani. Salta, salta, sal. Ok. Madonna, quanto ha piegato. C'è il cerchio che stava toccando per terra, ma visto che la terra ha metà texture e metà no, i paletti non si contano. Avrei già fatto non so quanti strike. È bellissimo prenderlo lì, la sai, il salto. Ma lo fai? Erda, erda. Oh mio, ti, oh mio. Ande. Ok, 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 ok. L'ha fatto. Ci sono più forti. Probabilmente c'è un modo più semplice per farlo, però devo lasciare il gas per farlo. Non mi spendo nessuno. Non blooppiaHiShop Joker paintwork. Oh mio Dio, quanto era piegato. Un ruolo d'inclinazione a 190 gradi. È completamente... La ruota diventa... La ruota diventa... ... piętarte... la ruota diventa davanti. Ha churato cam... Una ruotata... Mamma mia, uno stile. ma che questa volta si va a vincere facile ok non sento rumore degli altri ma sono tutti incidenti eh sì sì sono indietro a posto non mi fa e non è caduto perché con me cade sempre sto coglione pocococ stai dietro sì però vedo che comunque sia cioè sono sempre Tixier, Charlier un altro che non vedo Eblings che non so come mai ha finito là indietro comunque signori e signori anche stavolta l'onorevole Luca ha regnato 92 punti vedete grazie a cazzo le difficoltà media non so ragazzi però avete visto anche prima io faccio il cazzone e dopo li pongo tutto andato vado avanti su tutti i livelli 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 nessun problema guarda lì guarda lì i fans i fans che crescono in modo va là sei più forte sei più forte l'ho già detto sei più forte vabbè ragazzi me lo fai scartare? no me lo fa saltare vabbè io direi che se andiamo a leggere no leggiamo un cazzo perché è già lungo lungo la morte cos'è sta? ah c'era anche una sezione di là adesso c'è la moto prima non la mettevo in un posto adesso c'è vabbè ragazzi vi saluto perché il video è già durato tantissimo mi raccomando se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio vi ringrazio ancora di più se lasciate un bel like bella a tutti alla prossima vi ringrazio ancora di più